Il Museo Ittico Augusto Capriotti di San Benedetto ha una storia del tutto particolare. Nasce infatti da un'esigenza ben precisa che è quella di intendersi fra compratori e venditori al mercato del pesce. Molto spesso infatti loro chiamavano con nomi differenti lo stesso pesce. Quindi avere sotto vaso un esemplare con un nome scientifico ben preciso significava non sbagliarsi. La cosa particolare di questo museo è che mentre tutti gli altri musei scientifici nascono dalle raccolte fatte da studiosi, ricercatori o anche appassionati, in questo caso il Museo Capriotti si è arricchito delle collezioni portate direttamente dai pescatori. Quindi tutto quello che avveniva trovato nei mari di tutto il mondo, di curioso, di particolare, veniva portato qui e questo ha permesso di costruire un museo forse unico. All'inizio del 2019 comincia la nostra collaborazione, quella del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino con il Museo Ittico Capriotti. Siamo stati chiamati prima di tutto per catalogare tutti i reperti, fotografarli. Dopo questo primo lavoro abbiamo immaginato anche un nuovo percorso espositivo che potesse muoversi dalle profondità del mare fino alla superficie con tutti i suoi abitanti. Il percorso è stato inaugurato a fine anno, nel dicembre del 2019, ed ora è a disposizione del pubblico. Il primo reperto che accoglie i visitatori è proprio il cranio con mandicola della balenotta, qui alle mie spalle. Un animale sul quale si possono raccontare molte storie, così come su quasi tutti i reperti esposti si possono raccontare delle storie molto interessanti. Per ogni vetrina ci sono delle storie da raccontare, ci sono degli adattamenti da spiegare, perché tutto quello che noi vediamo fra gli abitanti del mare è frutto della selezione naturale, quindi di migliaia e migliaia di anni di adattamento ad un certo ambiente. Un aspetto importante di questo museo è l'interazione e l'interattività, per cui il pubblico dei più piccoli può divertirsi anche con i reperti, naturalmente quelli che hanno un valore scientifico minore, toccandoli direttamente. Ci sono poi dei computer a disposizione, dei touchscreen, anche un angolo in cui si può giocare al mercato del pesce, avendo informazioni sui pesci che normalmente mangiamo, che finiscono sulla nostra tavola, e poi anche un momento di riflessione, invece tutto dedicato ai problemi che attualmente ha il nostro mare mediterraneo e l'Adriatico in particolare, che è quello delle microplastiche e dell'inquinamento. Negli ultimi anni poi ci sono stati grossi rinnovamenti, come per esempio la creazione di una sala multimediale in Mersì, in cui animali tridimensionali vengono proiettati per il piacere del pubblico, soprattutto dei più giovani. Il nostro rapporto con il museo ittico non finisce qui, naturalmente sia il Museo delle Scienze continuerà a collaborare dal punto di vista espositivo e didattico, sia il centro di ricerca Urdis della nostra università continuerà a portare il frutto delle loro indagini e delle loro ricerche qui in esposizione per raccontare quali sono i problemi del mare al nostro pubblico.